Allora, benvenuti. L'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme la nuova caratteristica di Java che è stata presentata nelle ultime lezioni che sono state pubblicate, che riguarda i tipi generici. Che cosa sono i tipi generici? Sostanzialmente sono un'estensione del sistema di tipi che già esiste in Java in modo da consentire la scrittura di metodi e classi che possano adattarsi a diverse varianti di che cosa? Dei tipi che trattano come parametri o come attributi. Iniziamo, come al solito in queste lezioni in diretta, da alcuni esempi molto semplici e concreti. Prendiamo il solito Eclipse e proviamo a vedere come andremmo a scrivere un metodo che serve ad esempio a contare gli elementi che stanno all'interno di una classe, scusate, di un array. Scrivo il metodo main. Immaginiamo di avere un array di stringhe con delle parole Allora, prendo una stringa e utilizzo il metodo split che serve per andare a spezzare la stringa in una serie di sottostringhe in corrispondenza di un dato separatore Come vedete, io utilizzo la descrizione di una stringa dichiarata in maniera statica, quindi tra virgolette e poi metto direttamente il punto, perché? Perché quello che precede sostanzialmente è una stringa e quindi posso andare a utilizzare questa notazione, diciamo, compatta senza problemi. Il risultato di split, come abbiamo già visto qualche volta e come vediamo nell'help che viene mostrato, è un array. A questo punto, primo esempio, proviamo a scrivere un metodo che... Allora, proviamo a scrivere un metodo che permetta di andare a contare quanti elementi ci sono. Allora, è ovvio che abbiamo a disposizione il metodo length, ma giusto per iniziare da qualcosa di veramente banale. Quindi, public static int count Possiamo scrivere string Questo è un vettore E qui andiamo a mettere Int count uguale a 0 For string s in v Diciamo che If s è diverso da null Più 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 count E poi return count Allora, questo metodo, un metodo banale, conta gli elementi non nulli Lo possiamo scrivere anche qua nel javadoc Allora, questo metodo banale, conta gli elementi non nulli all'interno di un array Allora, visto che abbiamo parlato di eccezioni la volta scorsa Qualche osservazione Per quanto riguarda l'esame e i laboratori che vi assegniamo Normalmente, se occorre verificare qualche condizione particolare o qualche anomalia È scritto esplicitamente nei requisiti Se non è scritto, potete tranquillamente assumere che tutto venga fatto senza nessun problema Ovvero, che i metodi vengano chiamati con i parametri corretti Che i costruttori vengono inizializzati con i parametri corretti, eccetera Nella vita reale, questa assunzione non possiamo farla Per cui è necessario andare a fare quella che è un po' di programmazione difensiva Ovvero, è bene andare a verificare che i parametri che vengono passati a un metodo Siano corretti Per evitare che il metodo si comporti in maniera anomala O che faccia fare un crash al sistema Ora, se il nostro array v fosse nullo Potrebbe creare dei problemi Qui, quando vado a fare l'iterazione Per cui, la prima cosa che possiamo fare è If v è uguale a null Return 0 Potremmo restituire meno 1 Potremmo restituire un altro valore Potremmo lanciare un'eccezione Quello che volete A questo punto Se noi vogliamo migliorare questo metodo Per renderlo più generico Immaginiamo che ci sia l'utilità di avere un metodo di questo tipo Che non operi soltanto sulle stringhe Ma operi, ad esempio, anche su array di qualunque tipo Quindi, chiamiamo questo metodo countNotNull Gli metto un suffisso S Per indicare che questo è quello per le stringhe Noi possiamo andare a scriverne un altro Ve lo scrivo qua sopra Così ce l'abbiamo a portata di mano Un countNotNull generale Questo qua è un array di stringhe E questo funziona per un array generico Quindi invece di mettere string Qui metto object Qui nell'iterazione invece di mettere string Metto object E a questo punto tutto funziona L'utilizzo di object In quanto riferimento universale Ovvero quei riferimenti che possono puntare a qualunque oggetto In questo caso ci è molto utile Ok A questo punto Immaginiamo di voler andare invece a Contare non quanti elementi sono nulli Ma quanti elementi invece Sono sostanzialmente uguali a un elemento dato Ovviamente io qui posso chiamare CountNotNull La versione stringa a cui passo parole E va tutto bene E posso chiamare ovviamente CountNotNull Parole Questa è la versione specifica Questa è la versione specifica Per stringhe E questa è la versione generale Per object Dall'esterno sono uguali La versione generale è più utile Perché la possiamo applicare qui E la possiamo applicare in Qualunque contesto A questo punto Andiamo a definire un altro metodo Che abbia come obiettivo Conta gli elementi Uguali ad un Elemento dato All'interno di un Array CountIf Equal Abbiamo l'oggetto V Che è un array E abbiamo Un altro oggetto Che è Sostanzialmente L'elemento Che vogliamo andare a verificare Di cui vogliamo andare a verificare La presenza A questo punto Valgono tutte le altre cose Count uguale a zero A questo punto Quello che possiamo andare a scrivere qua È If S Punto Equals Element Più più count S Di nuovo Elemento Può essere di qualunque tipo Quindi io posso andare a chiamare Il metodo Count If Equal Andare a mettere le mie parole E andare a mettere la parola Per Tutto questo funziona Va bene Il problema è che Data Questa variante Io potrei anche scrivere qualcosa Del tipo Count If Equal Parole Virgola 42 Domanda Non dovremmo comunque tenere conto del null Se vogliamo essere tranquilli Sì E quindi Qua Dovremmo andare a mettere If S È diverso da null E S Punto Equal Element In questo modo Il risultato sarebbe un null Pointer Exception Quindi Corretto E un'aggiunta in più Ripeto Nella programmazione reale All'esterno di questo corso Questo è importantissimo Perché Vi permette di scrivere del codice robusto Che non Dà dei problemi Nel contesto del corso Questi controlli Soprattutto Tutti i sede d'esame in cui avrete poco tempo Li potete evitare Per cui Possiamo Questo è Qualcosa che noi possiamo scrivere Quindi è sintatticamente Corretto Ma Privo di Senso Questo perché Perché Nel nostro metodo Abbiamo Un Elemento Che è di tipo Object E quindi Non ci dà Molti Dettagli Il fatto che sia Generale Come tipo di riferimento Quindi possa puntare A qualunque oggetto È un vantaggio Da un lato Ma è uno svantaggio Perché il compilatore Non può fare Nessuna assunzione A questo punto A noi piacerebbe Poter avere Da parte del compilatore Un controllo Un po' più dettagliato Su Quello che è Il modo di invocare Questo metodo Come possiamo fare? Beh Una possibilità È di andare a trasformare Questo metodo In un metodo Non In un metodo generico Questo è un metodo Non generico Quindi fatemelo Rinominare Come County Fequals NG E vado a mettere Una variante Ve la metto qua sopra Così resta Nello schermo Che riusciamo a vedere Generico Cos'è un tipo generico E Scusate Un metodo generico È un metodo In cui io vado a mettere Quello che si chiama Un parametro di tipo T E dove Questo parametro di tipo Può indicare Sostanzialmente Un tipo Ovvero Il nome di una classe Quindi invece di mettere qui Object Andiamo a mettere T Ovviamente Qui possiamo andare A mettere T Allora Domanda Perché non ha senso Con object Allora Non ha senso Perché io posso scrivere Una Chiamata di questo tipo Dove passo 42 Che è un numero intero Per fare una Ricerca All'interno di Numeri Scusate Di parole Quindi passo un numero Tra delle parole Non mi accorgo Che non ha senso Quindi quel valore lì Resterà Sempre zero Perché Ovviamente Questo è un intero E queste sono parole Quindi è una ricerca Che non ha minimamente senso Il compilatore Però me la accetta Perché quello è un oggetto Esattamente come gli altri A questo punto Se io utilizzo questa variante Posso scrivere esattamente la stessa cosa che scrivevo prima Con questo County Fiquel Benissimo Funziona esattamente come prima Perché Perché in questo caso Il compilatore Sostituisce T Con String Quindi è come se Prendesse questa dichiarazione qua Prendesse T E al suo posto Mettesse string Quindi in pratica È come se In realtà non è esattamente così È come se Il compilatore Prendesse quel metodo E ne creasse Una versione specializzata In cui invece di mettere T Mette string E quindi Qui noi abbiamo la nostra versione specializzata Di County Fiquel Che Per questo uso Qui Corretto Non ci dice nulla È sostanzialmente Equivalente All'altro Il vantaggio nasce Nel momento in cui Io cerco di fare County Fiquel E invece di passare Una stringa Passo Un numero Ecco in questo caso Mi ha fatto una conversione Che Usate Provo a mettere In realtà A questo punto Mi ha fatto La La sostituzione Con object Quindi Scusatemi Ma l'esempio Era Era Sbagliato Ok A questo punto Ho dovuto Aggiungere Questa parte Che Sostanzialmente Mi va a dire Che Il tipo Che io voglio sostituire Questo è Sostanzialmente Quello che si chiama Un suggerimento Di tipo Dichiaro Che T Deve Essere Sostituito Con String In questo caso Vedete Che Il messaggio D'errore Che ci viene Dato È Il Metodo Parametrizzato Non è Applicabile Per un Argomento String E Integer Quindi Il compilatore In questo caso Avendogli detto Che il tipo Deve essere String Ci dice Sostanzialmente Che Il Valore Che noi Passiamo Qui Come Elemento Deve essere Uguale Al Valore Del Tipo Degli elementi Di questo Array Quindi Questa Scrittura Sostanzialmente Scatena Nel Compilatore Un Controllo Che Permette Di Verificare Che C'è Un'inconsistenza Tra Il Parametro Che Passo Come Tipo E Il Tipo Invece Degli Array Ulteriore Esempio Immaginiamo Immaginiamo di voler andare a contare gli elementi non che siano uguali ma che soddisfano una certa condizione Quindi Metto semplicemente un countif e per verificare Allora domanda Non si poteva scrivere sostanzialmente soltanto questa parte No perché purtroppo la sintassi vedete che qui c'è un errore di sintassi Non è in grado di rilevare il tipo di suggerimento Il suggerimento noi lo possiamo mettere soltanto con il punto minore maggiore Quindi questa notazione semplicemente con minore maggiore Non mi permette Cioè è sinteticamente errato Io devo mettere semplicemente prima il contenitore E poi punto E poi la parte di suggerimento Altra domanda Perché in questo caso invece Può funzionare? Perché sostanzialmente Lui mi sostituisce t con object Che è il tipo di base di entrambi E quindi a questo punto Mi fa ricadere Nella situazione che vedevamo qua sotto Object, object Quindi se sostituisco t a object Riottengo esattamente il metodo di base Che era questo da cui siamo partiti E quindi me lo dà come corretto Ok? Benissimo Allora il countif Come faccio a contare gli elementi? Beh potrei avere un metodo Che è un contatore Ovvero Scusate un metodo Un metodo che verifica Se gli elementi devono essere contati o meno Ovviamente io non posso passare un metodo Come parametro Di un Di un altro metodo Ma l'unica cosa che posso passare È sostanzialmente un riferimento a un oggetto Oggetto che ovviamente deve contenere un metodo Per cui ad esempio potrei avere un Interfaccia Verifica Verifica Che restituisce un boolean E ha un metodo che si chiama verifica Che riceve Noi potremmo scrivere un object O Però in questo caso Sarebbe meglio andare a mettere un parametro T E dire che qui verifica un elemento di tipo T Questa è un'interfaccia generica Che ovviamente verrà sostituita con Un tipo Adatto In ogni occasione Quindi il countif Invece di avere un elemento Avrà un Verifica Di Verificatore A questo punto Invece di fare questo Andiamo a fare If S diverso da null E verificatore Punto Verifica Di S Quindi sostanzialmente cosa serve Conta tutti gli elementi All'interno di un array Che Soddisfano Una Condizione Verificata Da Un Verificatore Interfaccia Generica Per Verificatori Cosa vuol dire Che Tutti i verificatori Devono implementare Quell'interfaccia Per cui Torniamo al nostro Codice Del main Precedente Io posso andare a creare Un Verificatore Di Stringhe Di S Uguale a S Freccia Immaginiamo di voler andare a contare Soltanto Quelli che hanno una lunghezza Le stringhe che hanno una lunghezza Maggiore di 2 Andiamo a dire S Punto Length Maggiore di 2 Allora Scusate Non è verificatore Ma è verifica Ok Ecco qua Quindi questo È un Oggetto Verificatore Domanda Allora Quindi Quando istanzo Interfaccia Anziché solo Verifica Devo specificare Anche T Sì Perché Essendo Un'interfaccia Generica Devo andare a dire In realtà Che variante Di interfaccia Sto andando A Utilizzare E quindi Giustamente Come si osserva Questo String Viene Integrato Nel Tipo Di Verifica Quindi Questo Non è semplicemente Non è semplicemente Un oggetto Di tipo Verifica Ma è un oggetto Di tipo Verifica Di string Il tipo È Non Solo Verifica Ma Bensì Verifica Di string Quindi Tutto Questo È Il tipo Di Vs In questa Lambda S S È il parametro Che viene Passato Se volete Ve lo scrivo In maniera Equivalente Con Una Classe interna Anonima Equivale A dire Che Vs È uguale New Verifica Di String Public Boolean Verifica String S Return S Punto Length Maggiore Di Due Domanda È una stringa Che si definisce In quel momento E Immagino Si 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 Risca Ad S S È Il Parametro Che Viene Passato Quindi Sostanzialmente Vedete Che Io Ho Due Elementi Fondamentali Che Sono L'espressione Che Mi Viene Calcolata Ok Quindi Se Volete Questa Che Viene Messa Qui E Poi C'è Il Parametro Che È Messo Qua Ovviamente Io qui Ho messo S Perché La L'espressione È univoca E quindi Il compilatore È in grado Di Sostanzialmente Inferire Che S È di tipo String Quello Che posso Fare Volendo Caso di Ambiquità O per essere Più Chiaro È andare A dire String S Quindi A questo Punto Questa Dichiarazione È esattamente Identica A questa Qui se volete Questa parte Questa parte qua È quella che andiamo a mettere Qui Domanda Le lambda Ammettono Solo un parametro No Io posso Specificare Molti parametri In questo caso Ce n'era uno Solo Ma io potrei andare A metterne Più di uno Nel caso io Abbia più parametri Li devo racchiudere Tra parentesi Tonde Posso anche Specificare Più parametri Tra parentesi Tonde Senza Il tipo Quindi Ve lo scrivo qua Poi lo lascio Come commento Quindi io potrei andare A scrivere Una lambda A Virgola B Freccia Qualcosa Quello che E questa è una scrittura Corretta Se io metto Semplicemente A virgola B Freccia Quello mi viene considerato Come un errore Perché la virgola Di solito è un separatore Di parametri E quindi O di O di espressioni Quindi non viene considerato Come il separatore Tra i due parametri Della lambda Oppure potrei anche andare A dire Qualcosa di più complicato Tipo ad esempio String A Virgola String B Freccia E qualcos'altro Quindi queste sono due scritture Corrette Se invece Ho un unico parametro Non è strettamente Necessario Metterlo Tra parentesi Tonde Quindi è un po' Più semplice Quindi Io posso scrivere Della lambda Con qualunque numero Di parametri L'unico vincolo Della lambda È che L'interfaccia Che implementano Quindi verifica Nel nostro caso Deve avere Un unico metodo Perché giustamente Parametri Freccia Risultato Vuol dire Che io Ho un unico metodo Domanda Cosa serve La classe Object Se potremmo utilizzare Sempre i tipi generici La risposta è un po' Lunga Diciamo che La risposta breve è In realtà Sotto i tipi generici Ci sono gli object E quindi Di fatto Nascosto dal compilatore Dalle operazioni Che fa il compilatore Sotto Il nostro Verifica di string In realtà C'è un object Solo che il compilatore Aggiunge tutta una serie Di controlli aggiuntivi Allora Altra domanda Quindi con la lambda Vado a definire Cosa deve fare Il metodo Verifica Definito in interfaccia Esattamente Io ho Un'interfaccia Che è generica Quindi Sostanzialmente Dico Se costruisco Un verificatore Il verificatore Deve avere un metodo Che si chiama Verifica A questo punto All'interno Del metodo Countif So che Se mi arriva Un gverificatore Quel verificatore Avrà un metodo Verifica Quello che ho fatto Quassù Con la lambda Qua E In maniera Molto più Prolista Con la classe Interna Anonima Qui sotto E quello di andare A dire Va bene Allora Io voglio Creare un Verificatore E il verificatore E il verificatore È quello che Mi fa Quest'operazione Quindi verifica Che la lunghezza Della stringa Sia maggiore Di 2 Allora Altra domanda È possibile È possibile Mettere più istruzioni Dopo la freccia Allora Sì Quindi Una sintassi È qui Dove io Ho l'espressione Quindi ho un'espressione Che normalmente Sulla base Dei parametri Mi calcola un risultato Ovviamente Io potrei anche Andare a scrivere Un Sempre sullo stesso Esempio A e B Potrei mettere Una freccia Mettere delle graffe E dentro le graffe Mettere tutte le istruzioni Che voglio L'importante È che alla fine Ne abbia un ritorno Di qualcosa E quindi La mia lambda Potrebbe essere Molto più complicata Che una semplice Espressione Su una linea Allora Se avessimo messo Soltanto string S Soltanto S Non sarebbe stato Un errore Per cui Ve lo indicavo Prima Questo Lo posso scrivere Anche È il modo In cui l'avevo scritto All'inizio Semplicemente S In questo caso Il compilatore Si dice Inferisce Il tipo Di S Da dove Lo inferisce Sostanzialmente Dal fatto Che Il tipo Di VS È un verifica Di string Quindi sa Che Il tipo Di destinazione È un'interfaccia Che ha come parametro String E quindi Sa che Il parametro Del metodo Verifica Definito Che è sostanzialmente Quello che sto descrivendo Con questa lambda Ha come parametro Una string Quindi Molto spesso Quando ho un unico Parametro Non devo mettere Il tipo Ma anche Quando ne ho più di uno Perché il compilatore È in grado Abbastanza facilmente Di inferire I tipi Se Quella lambda Si trovasse All'interno Di chiamate Di chiamate Quindi molto annidate Il compilatore Fosse in difficoltà Io posso Sempre e comunque Andare a mettere Il tipo Per aiutare Il compilatore Quando non è in grado Di fare L'inferenza Domanda Si può utilizzare S2.2.lent In pratica no Perché Quello che devo fare Non è restituire Lent Ma andare A prendere La lunghezza E poi Fare un confronto Quindi Il due punti Due punti Quindi S2.2.lent Ve lo metto Qui Equivale a S Freccia S.lent Aperta Chiusa E quindi Mi manca il pezzo In cui confronto Il risultato di lente Ok Quindi I metodo Reference Vanno bene Se Esiste un metodo Che mi dà Già Esattamente Il risultato Che io voglio utilizzare Se non ho un metodo Si fatto Il metodo Reference È inutile Quindi Utilizzo una Lambda Attenzione Se È utile Avere un Metodo Reference E sto parlando Di classi Che ho scritto Io Posso sempre Aggiungerle In questo caso Stiamo parlando Di string Io non posso Andare a modificare String Quindi in generale Io come programmatore Non posso Andare a Prendere Una classe Già definita E Aggiungere Qualche dettaglio Almeno Non in java Esistono altri linguaggi Ad esempio Cotony In cui io posso Prendere string E aggiungerli A posteriori Dei metodi Però È un altro linguaggio Allora Ricancello Questo Perché Se no Poi Guardano Trovate il codice Non capite Cosa Significava Domanda Il tipo Generico Serve Evitarsi Una scrittura Del tipo Esattamente Quindi È ovvio Che scrivere Questa unica Linea È molto più comodo Che scriversi Tutta questa Sbordolata Di codice Quindi Le lambda Sostanzialmente Mi permettono Di andare A essere sintetico Non è il metodo Generico Ma è la lambda Il metodo generico Adesso ci arriviamo Quindi Diciamo che abbiamo Costruito il nostro Verificatore E possiamo andare A chiamare Il Count If A cui passo Il mio Array Di Elementi Disfruttati Di parole E a cui passo Anche Il Verificatore Permettini Di Dagli Un nome Lunghezza Almeno Almeno Tre Quindi Allora Domanda Ah ok Sì Il fatto Di avere L'interfaccia Generica Con T Qui Evita Di dover Andare A scrivere Una cosa Del tipo Se io invece Di avere Di avere Verifica Ve lo scrivo Magari qua sotto L'alternativa È quella Di avere Un Verifica Non Generica In cui In cui Vado a mettere Object A questo punto Se devo implementare Questa Interfaccia Quello che dovrei scrivere È Ve lo metto Qui sotto Ad esempio Se io ho un Verifica Non Generica Verifica Non Generica A questo punto Qui non ho una stringa Ma un object O Ovviamente Devo fare Un cast A string S Uguale String Di O Quindi Esattamente Il fatto Di avere L'interfaccia Generica Mi permette Di scriverlo In maniera Molto più Compatta O Se preferite Qui ho messo La La Lambda Scusate Qui ho messo La classe interna Anonima Se utilizzo Una lambda Dovei fare O Freccia Cast A string Di O E poi Tutto Questo Punto Length Maggiore Di 2 Ok Quindi spero di aver risposto All'ultima All'ultima domanda Oltre a questa Semplificazione In termini di Implementazione Il compilatore Qua È in grado Di capire Che essa È una stringa E quindi Length È un metodo Corretto Mentre invece Sotto Se io utilizzassi La verifica Non generica Il risultato Sarebbe Che potrei mettere Qualunque tipo Di invocazione Quindi potrei Fare un cast A qualunque cosa Quindi Più semplice La scrittura Dell'implementazione E controlli In più Da parte Del compilatore A questo punto Questo Mi conteggia Il numero Di parole Che hanno Lunghezza Almeno 3 Vi faccio Notare Che io Questo Lo potrei Anche andare A scrivere In maniera Molto Più Compatta Parola Freccia Parola Parola Punto Length Maggiore Di 2 Questo perché Perché Il tipo Count if Si aspetta Che qui Ci sia Una verifica Di t Ora Visto che Questo È stato Sottostituto Con string Si aspetta Che qua Ci sia Una string E quindi Automaticamente È in grado Di capire Che questa Parola Dovrà Avere Come tipo String La variante In cui Invece Di avere La verifica Generica Usate La verifica Come tipo Generico Avessi Un Count if Non generico Dove Quindi Qui Ho Un array Di object Qui Ho Un Verifica Non generica Qui Ho Un object Il mio metodo Alla fin fine Si scrive Più o meno Nello stesso modo Ok Vedete che Sostanzialmente Analogo Ho cambiato I tipi Ma Il punto È che Quassù Quando devo Andare Ad utilizzare Count if Non generico E ovviamente Qui Mi dice Ma Come faccio A sapere Che il metodo Length Esiste Perché qui La nostra Interfaccia In realtà È un'interfaccia Che accetta Degli elementi Di tipo Object Quindi Potrei andare Qui a dire String Parola Il punto È che Qui mi dice Guarda che Nella Interfaccia Non generica Il parametro Deve essere Di tipo Object Quindi questo Non lo posso fare Quello che posso fare È qui Per forza Andare a mettere Un cast A string E poi E poi Fare Così Quindi la scrittura È decisamente Più compatta Inoltre Inoltre Come vi dicevo Prima Oltre ad avere Una scrittura Più compatta Ho anche La possibilità Di fare Dei controlli Perché Se qui Immagino Di utilizzare Un intero E faccio I punto Int Value Mi dice Guarda che Int Value Non c'è Nel tipo String Se invece Uso questo E vado a fare I freccia Casta Integer Di I Scusate Non generica In questo caso Me lo lascia fare Quindi io Vado a creare Un oggetto Verifica Non generica Che assume Che il tutto Sia un intero E il compilatore Me lo lascia fare Perché ho dovuto Mettere una serie Di cast E il compilatore Tutto sommato Me le accetta Se invece Vado a fare Un'operazione Di questo tipo Con Un Oggetto Di tipo Verifica Che Utilizza Un integer Non funziona Il compilatore Mi blocca subito Stessa cosa Se invece di fare Quello Mettessi Un Verifica Di Integer Vi Uguale Questa scrittura E poi provassi A passare Il mio oggetto Di Questa scrittura È più compatta Questa È un po' Più estesa In questo caso Mi dice Attenzione Che il valore Int Value Non è definito Per string Come fa a sapere Che è string Perché il primo parametro È parole E quindi Assume Che il secondo parametro Sia un verifica Di String Dove String È l'elemento Dell'array Parola In questo caso Il messaggio D'errore È leggermente Diverso Mi dice Attenzione Il metodo Non è applicabile Per Aspettate Che vi Copio Questo Perché Non so Quanto Riusciate A leggerlo Errore Di Compilazione Due punti Vi ho copiato qui Il messaggio Del compilatore Così l'ho riuscita A leggere meglio Ok L'errore di compilazione È il metodo Count if T Esempi generici Verifica di T Nel Non è applicabile Per gli argomenti String Quadre E Esempi generici Integer Se ho Un array Di string Mi aspetto Di avere Una verifica Di string E quindi In questo caso Ho un mismatch Che è poi Lo stesso errore Che avrei Se qui Invece di scrivere Direttamente In value Scrivessi Integer Di Qui mi dice Non è applicabile Per String Integer Di freccia E integer Mi dice Type mismatch Mi aspettavo Mi aspettavo Un altro Parametro Ok Quindi Con Il metodo Di verifica Non generico Ho una scrittura Decisamente Più Vediamo qua Dove è corretto Quindi Con Il metodo Generico L'interfaccia Generica Ho una scrittura Che è decisamente Più compatta Se devo utilizzare Il metodo Non generico L'interfaccia Non generica La mia scrittura Vedete È complicata Devo mettere Una serie di cast E qui stiamo parlando Di un unico metodo Scusate Di un unico metodo Chiamato Di cui vado a verificare Il risultato Immaginate Come si complicano le cose Se quel metodo Fosse un po' più complicato Un po' più complesso Inoltre Quindi Oltre ad avere Una semplificazione Della scrittura Del codice Ho Dei controlli Fatti Dal Compilatore Che garantiscono La coerenza Tra I tipi Per cui Se cerco di passare Un verificatore Di integer A Questo metodo Dove il primo parametro È una stringa Il risultato Ovviamente È un errore E quindi questo Non funziona Idem Qui sotto Il metodo Non è compatibile Idem qua sotto Il metodo Non è compatibile L'ultimo Invece Sostanzialmente Dove devo comunque Fare un cast Non si accorge Di nulla Il compilatore Accetta il cast E il risultato Sarà che A runtime Ho un class cast exception Allora Domanda Non capisco la differenza Tra il count if Con l'integer Corretto E quello Non corretto Allora Questo È corretto Per il compilatore Perché ho usato La versione Non generica Quindi ng E quindi Il compilatore Me lo lascia passare Ma come Vi dicevo A runtime Ottengo Un Esattamente Non è corretto Perché Allora È corretto Per il compilatore Ma A runtime Scopro che in realtà Non andava bene Perché il compilatore Mi ha accettato il cast Perché quello È l'unico modo Di andare a chiamare Il metodo IntValue E quindi Non è corretto Neanche quello Il punto è Il compilatore Non ha potuto Accorgersene Mentre invece Nei casi precedenti Tutti questi In cui utilizzavo La versione generica Il compilatore Ha avuto La possibilità Di fare Il controllo Che i due tipi Quindi Il tipo Degli elementi Dell'array E Il tipo Del parametro Del metodo Verifica Fossero coerenti Quindi Il doppio vantaggio Di utilizzare Tipi generici È 1 Scrittura più compatta 2 Verifica Direttamente Del compilatore Della coerenza Di tipi Tenete presente Che Se voi scrivete Un programma Di grandi dimensioni Magari Quel metodo Lì Quella chiamata Quel metodo Questa qui sotto Intendo Magari Non la provate Perché avete Poco tempo Per fare i test Situazione Non ideale Ma può succedere Anzi succede Molto spesso Nella pratica Il risultato Quel codice Che non avete Mai provato Finisce Nelle mani Del vostro cliente Che esegue Il programma E si trova Un Classcast Exception Quindi Il fatto Di avere Una verifica In fase Di compilazione Mi dà Dei grossi vantaggi Allora Domanda Di far Mostrare Di nuovo Scusate Che non trovo La posizione Del corsore Eccolo qua Il Countif Non generico Che è questo Qua sotto Vedete È praticamente Uguale all'altro Ok L'unica cosa È che qui Ho un object E qui Ho una verifica Non generica Mentre invece qui Ho un t E qui Ho verifica Di t Quindi il compilatore È in grado Di verificare Che t E t Siano lo stesso Tipo Mentre invece Qui sotto Ho un object E qui Ho un qualcosa Che di nuovo Ha un object Vi Faccio Che Effettuare Il Team Commit Subito Del codice Così ce l'avete A disposizione Subito Esempi Tipi Genetici Lezione Del 22 Ok Ok A questo punto Avete il codice Anche su Subversion Quindi Se fate un update Del primo progetto Quello che abbiamo Già iniziato a guardare Potete vedere il codice Con calma E riuscite a A vederlo Allora domanda Qui Nell'ultimo esempio Abbiamo parlato Di integer Eccoci qua Che differenza c'è Tra integer e int Beh sostanzialmente La differenza è che Un caso Int È un tipo primitivo Che quindi ha 32 bit Nell'altro caso Ho un oggetto Che contiene al suo interno L'attributo Quindi ho una classe wrapper Il risultato In pratica È che Quando ho a che fare Con Un tipo t Posso sostituirlo Solo ed esclusivamente Con una classe wrapper E non Con una classe Di tipo Non con un tipo primitivo Quindi in realtà Tutte le volte Che ho queste Questi tipi generici Automaticamente Devo utilizzare Se o voglio utilizzare Dei tipi interi La classe integer Attenzione Che questo comporta La conversione automatica Quindi Scatta Quello che è L'autoboxing Ovvero È un meccanismo Che mi permette Di andare a Accumulare Degli Int All'interno degli integer Però È un'operazione costosa Perché quando Devo creare un integer Devo allocare la memoria Inizializzarlo E a quel punto L'integer In generale La raccomandazione È tutte le volte Che voi potete Utilizzate direttamente I tipi primitivi Perché sono molto Molto più efficienti Se È necessario Utilizzare Dei tipi Generici In cui Ovviamente Int Non funziona Ma dovete utilizzare Integer Ecco che allora Per forza Utilizzerete Integer Quindi in generale Non dovete Neanche fare La conversione Perché normalmente Funziona quasi sempre L'autoboxing Per cui Non preoccupatevi Più di tanto Ricordatevi che Comunque In termini di prestazioni Ci sono delle grosse Differenze Nell'ultima lezione In cui vi facevo vedere L'ordinamento Se è un ordinamento Che utilizza degli int Ho un certo tipo Di prestazioni Se è un ordinamento Che usa degli integer Le prestazioni sono Molto Molto Più ridotte Come esempio Provate a crearvi Un array Di Non so Centomila Un milione di elementi In cui andate a memorizzare Degli oggetti Di tipo int Poi fate La stessa cosa Ma Invece di utilizzare degli int Utilizzate degli integer E provate ad andare a vedere Quanto tempo è necessario Per andare a calcolare La somma Vedrete che c'è Un po' di differenza Allora Quello che abbiamo visto qua Nel nostro Metodo Countif Più che altro Riguardava I Metodi Generici Per cui io Posso andare a dire Che il metodo Countif In realtà Non è uno solo Ma è come se Se fossero tanti In cui Vado a sostituire Di volta in volta T Con String Piuttosto che Un altro tipo A volte però È comodo Avere Oltre a Dei metodi generici Anche delle classi Generiche Per quanto riguarda L'interfaccia L'abbiamo già visto Che è utile Vado a Vado a riprendervi Un esempio Che avevamo fatto Parlando di Ereditarietà Ed è la classe Vettore La classe Vettore Se ricordate È questa In cui ho Un array Di elementi E Gli elementi Che vengono utilizzati Sono di tipo Int Questo Array Sostanzialmente È un metodo Resize Che Quando cerco Di aggiungere Un elemento Che va Oltre Quelli Memorizzati In pratica Ridimensiona L'array Quindi mi crea Un nuovo array Più grande In modo che ci stia tutto Ora Questo vettore Scritto così Permette di avere Soltanto degli interi Sarebbe utile Avere Una variante Di questo vettore Che invece di Contenere degli interi Può contenere Qualunque cosa In questo caso Che cosa faccio? Invece di andare A dichiarare Un vettore Vado a dichiarare Un vettore Di T Il vettore di T Vuol dire Che gli elementi Invece Di essere Di tipo Int Saranno T Ecco Questo è un altro Caso in cui Non potrò mettere Dentro degli Int Ma Dovò avere Degli Integer A questo punto Vado a creare Un nuovo array Di T Vado a creare Un nuovo array Di T Elemento a questo punto Non è Più Int Ma è T Return Non Un int Ma Una T E qui Ovviamente Questo messaggio Potrebbe essere Un return Di null Il put Indice Il valore È di tipo T E gli altri Metodi Sostanzialmente Sono tutti uguali Quindi In termini Di scrittura Del codice Ho Praticamente Le stesse cose Solo che Ho sostituito Con il tipo Specifico Che prima Era un int Un tipo Più generale Che è Il nostro T Come funziona Il meccanismo Di traduzione Di questo Nel codice Effettivo Quello che Viene fatto All'interno Del nostro Tipo Generico È Sostanzialmente Sì Infatti Allora Non è possibile Creare un Vettore Generico Adesso Ci arrivo Cosa Succede Il compilatore Prende questo Tipo E Dice Va bene Io in realtà Non posso andare A generare N varianti Del vettore Per String Integer Studente Corso Eccetera Quindi Ne faccio una sola E invece di utilizzare T Vado ad utilizzare Un tipo Semplice Ad esempio Object Quindi In pratica È come se io qui Invece di andare a mettere T Avessi messo Object Quindi Permettetemi di fare Un'altra Classe Vettore Object Quindi Vettore Object È simile A quello Che Abbiamo fatto Qua Solo che Non è più Un tipo Generico Ma qui Invece di avere T Object Invece di avere T Object Invece di avere T Object Qui Aggiungo Un object Qui Prestituisco Un object E poi Anche qua Ho un object A questo punto Vi faccio un piccolo esempio Con vettore Per cui Diciamo che Crea un vettore V uguale New Scusate Vettore Object V uguale New Vettore Object Faccio V punto Add Primo Elemento E poi Vado a dire String S uguale V punto Get Zero Il problema È che qua Ovviamente Get Restituisce Object E quindi Io devo Aggiungere Un cast Quindi Codice Più Complicato Inoltre Esattamente Come prima Se io Faccio Un integer I Uguale Cast A integer Di P Di Get Di Zero Il compilatore Me lo lascia Passare Ma In fase Di Esecuzione Quello che Ottengo È un Class Cast Exception Ok Quindi Devo mettere Dei cast E in più Il compilatore Mi lascia fare Delle cose Che poi A runtime Si rivelano Essere Errate Per questo motivo Se io Utilizzo Un vettore Di String Di S Uguale New Vettore String Posso fare Le stesse cose Di prima Quindi Aggiungo Un elemento S2 A questo punto Il cast Non è più necessario Perché Get Non è DS Punto Get Restituisce Effettivamente Una stringa È un tipo generico E se cerco Di fare Quest'operazione Quindi VS Punto Get Il compilatore Mi dice Guarda che Non puoi fare Un cast Da string A integer Perché Le due classi Non sono una Sottoclasse Dell'altra E quindi Mi dà subito L'errore Che Qui Io invece Non vedevo Quindi Scrittura Più semplice E Errore Identificato Dal compilatore Quindi molto prima Di quello che Invece qui Errore Si Verifica A Runtime Ok Quindi I vantaggi Sono sostanzialmente Analoghi a quelli Di metodi Generici Quindi scrittura Più semplice E controlli Aggiuntivi A questo punto Andiamo a vedere Dentro Il vettore Come funziona Allora Domanda Non ci sono problemi D'autocazione Object È più piccolo Di qualunque oggetto Che lo eredita Attenzione Immagino Tu faccia riferimento A questa classe Dove ho Object Dentro Elementi Io non ho Gli oggetti Ma questo è un Array Di Riferimenti A Object I riferimenti Che siano Object Che siano String Che siano Studente O qualunque Altra cosa Sono tutti Uguali Come spazio Di memorizzazione Quindi L'array Di object Come L'array Di string O l'array Di studenti Di per sé Occupa la stessa Memoria Perché è Una collezione Di riferimenti E i riferimenti Sono sostanzialmente Tutti Uguali In termini Di occupazione Della memoria Ovviamente L'oggetto a cui puntano Può essere effettivamente Diverso Però Dentro l'array Io memorizzo I riferimenti E non gli oggetti Cosa succede al compilatore? Allora Sostanzialmente Il compilatore Crea Al posto di vettore Una cosa molto simile A vettore di object Salvo che All'esterno Comunque Lui mantenga L'informazione Che quel vettore È di string Mentre invece Per quanto usa Quando usa vettore di object Non ha molte informazioni Quindi in pratica Nella implementazione Di questa classe Cosa fa? Prende t E sostituisce object Il problema è che In realtà Di volta in volta All'interno della classe Io magari mi trovo Dentro la classe Vettore Ma sto Facendo riferimento A una classe Che ha un vettore Di string Piuttosto che un vettore Di integer Piuttosto che un vettore Di studenti Quindi Il tipo t Non viene associato A nessun Tipo specifico Per cui Io non posso Neanche andare a fare Ad esempio Qua Un Elemento Instance Of Di t Perché Non posso Utilizzare Il tipo generico All'interno della classe T È un qualcosa Che io non posso Utilizzare Nella scrittura Ma non so esattamente Cosa sia Perché La classe è unica E quindi È sostanzialmente Lo stesso codice Per un array Per un vettore di string E per un vettore di integer Quindi All'interno Del Tipo generico T È un qualcosa Che è lì Ma io non so Esattamente Cosa sia È un tipo Per l'appunto Generico Per questo motivo Io non posso Andare a Scrivere If Elemento Di Instance Of Perché Non posso Fare un Instance Of Con Un Parametro Di tipo Proprio per evitare Che qui dentro Io assuma Che t Possa essere Una stringa Quando in realtà Magari Mi trovo In un vettore Di Scusate Di Integer O Di studenti E non potendo Fare Instance Sob Quindi non sapendo Che cos'è t Non posso neanche andare a creare Un array Di t Perché Cosa dovrei fare? Dovrei creare un array di Oggetti Di stringhe O Di che cosa? Per cui ho Questa Limitazione Quello che posso fare Ovviamente Invece di andare a mettere t Andare a mettere Qui Object E qui Fare Object E qui fare Object A questo punto Qui Dovrò andare a fare Un cast A t E nel momento in cui Accedo all'elemento Devo dire Attenzione Convertilo in t Qui mi dice C'è un cast Non verificato Perché? Perché per l'appunto Il compilatore Non sa cos'è t E quindi Non è in grado Di fare la verifica Che quel cast Sia corretto Noi siamo sicuri Che tutto funziona Perché in realtà Sia il metodo put Che il metodo add Hanno elementi Di tipo t E quindi Sappiamo che Io che ho Scritto il codice So che è Un cast Corretto Ok? Il compilatore In realtà Non riesce a Fare Quest'inferenza Andando a vedere Add E put Che sono i metodi Che possono aggiungere Quindi non è in grado Di capire Che effettivamente Quello è corretto Per cui O mi tengo Il warning Che mi dice Guarda che quel cast Non è verificabile Dal compilatore Oppure Aggiungo Questa notazione E mi dice Togli I warning Del tipo Cast Non controllati Attenzione A Sopprimere I warning Perché I warning Vi segnalano Possibili problemi In generale Questo forse Ve l'avevo detto In una delle prime lezioni Quando scrivete Il codice Ricordatevi che La prima cosa Che dovete fare È verificare Che non ci siano errori Perché Se ci sono errori Il compilatore Non vi genera alcun codice E quindi Quelli Devono essere rimossi Subito Però Li vedete chiaramente Perché ci sono Dei bollini sul margine Ci sono anche Sulla destra Una serie di Segni rossi Che vi dicono Dove Ci sono Gli errori Il secondo passo Una volta che Il vostro codice È scritto Ed è privo di errori E quindi avete Il compilatore Che è in grado Di generare del codice Potete andare a verificare Che effettivamente Il codice Sia corretto E andare a verificare Che non ci siano Dei warning I warning Normalmente Andiamo a prendere qui Vedete che qui Ho un warning Mi dice che C'è qualcosa Che è sospetto Che potrebbe Non essere corretto Rispetto alla sintassi Quindi il compilatore In grado di generare il codice Tuttavia È un po' particolare Quindi potrebbe essere Non un errore di sintassi Ma un errore di programmazione Esempio S Qui È segnalato Come warning Perché mi dice Il valore della variabile locale S Non è utilizzato E allora voi direte Beh se non è utilizzato È inutile Quindi quella variabile Potremmo toglierla È ovvio che se invece Io vado a mettere Un system Punto Out Punto Print Ln Di S Quel warning Mi scompare Perché La variabile S Che per il compilatore Era inutile A questo punto È diventata utile Stessa cosa Per l'altra variabile S2 Se io Dimostro al compilatore E quella variabile è utile E allora lui mi dice Va bene A questo punto Non è più Un warning Ovviamente nei nostri esempi Molto spesso Io vi metto delle variabili Che poi non vado Né a stampare Né a utilizzare Giusto per farvi vedere La sintassi Però Nel codice Che normalmente scriviamo Completo Non dovrebbero esserci Warning È ovvio che Se voi avete Una variabile Che assegna A cui assegnate un valore Ma che poi non utilizzate Molto probabilmente Il vostro programma Funziona lo stesso Per cui In generale In termini di Valutazione dell'esame Noi non andiamo a guardare Se ci sono O meno dei warning Quindi se voi avete Lasciato del codice Inutile Va bene lo stesso Per del codice Di produzione Che quindi scrivete In un contesto di lavoro Invece Tendenzialmente È preferibile Non avere dei warning Andare a consegnare Ai vostri colleghi Del codice Che è pieno di warning Significa sostanzialmente Che avete fatto Un lavoro Non ideale È come se il vostro capo Vi chiedesse Una relazione E voi Gliela consegnate Su Della carta Stropicciata Macchiata Di sugo È ovvio Che Sì Magari il contenuto E quello che avete scritto È corretto Però Probabilmente La cura Che avete messo Nella scrittura Del rapporto Con le macchie di sugo È la stessa Che avete messo Nel codice Che contiene Dei warning Quindi Il codice funziona Ma Tendenzialmente Potrebbe Contenere Delle disattenzioni Ok Ultimo aspetto Su cui volevo Attirare la vostra attenzione È Quello che riguarda Vi apro La documentazione Online Tutte le interfacce Che sono presenti Nella classe Nel package Java.util Function Qui Vedete che abbiamo Tutta una serie Di Interfacce Tutte generiche Che Sostanzialmente Prevedono Buona parte Dei casi Necessari Quando Abbiamo a che fare Con interfacce Generiche Allora L'unknown Sì Dell'unknown Magari ne parliamo La prossima volta In un esercizio Un po' diverso Comunque Verificate Cioè guardate Prima le lezioni E poi parliamo Anche del Unknown Se avete dubbi Ovviamente Dopo aver guardato Le lezioni Fate pure domande Su Slack Quindi Cercherò di chiarire Lì Se non C'è una lezione Precedente Per cui Ad esempio Esiste Un'interfaccia Funzionale Che si chiama Predicate Che ha A parte Questi metodi Default Che ci interessano Poco Un metodo Che si chiama Test Che riceve Un parametro Tree E restituisce Un boolean Ecco Questo metodo Assomiglia Tantissimo Al metodo Che abbiamo Utilizzato Scusate Al metodo All'interfaccia Che abbiamo Utilizzato Qua Che abbiamo Chiamato Verifica Per cui In realtà Qui Invece Di utilizzare Verifica Potrei Utilizzare Tranquillamente Predicate Ovviamente Predicate Un'interfaccia Che io Devo andare A Importare Da java Util Function E qui Invece Di chiamarlo Verifica Lo chiamo Test Quindi Il mio Metodo Generico Verifica Io potrei Andare A rinominare Questo In test Ed è Sostanzialmente Analogo A Avere L'interfaccia Predicate Per cui È ovvio Che a questo Punto Il codice Che ho scritto Qua Vedete Parola Freccia Parola Punto Mai Maggiore Di 2 Funziona Esattamente Come prima Senza Nessuna Modifica Perché Perché Sostanzialmente Il compilatore Vede che qui dentro È previsto Un predicate E quindi Questa Lambda La Usa Per andare A creare Un oggetto Di tipo Predicate Perché Perché C'è un unico Metodo Che accetta Un parametro E restituisce Un boolean Esattamente Quello Per quanto Riguarda Qui Verifica Beh Non funziona Più Come prima Perché Invece Di utilizzare Verifica Dovrei Usare Predicate Predicate E anche qui Predicate Però Cambiando il nome Dell'interfaccia Sostanzialmente Non cambia nulla Sono sostanzialmente Identiche Domanda Posso utilizzare La Lambda Anche se Ha più di un metodo Sì Perché In realtà I metodi Che ci sono Qui Sono Metodi Di default Oppure Statici Scusate Un metodo Statico Quando lo definisco All'interno Di una Di una Interfaccia Lo implemento Ok Non cambia Molto Invece I metodi Di default Sono dei metodi Che Non sono Statici Però Anche essi Hanno già Una Loro Implementazione Vi faccio L'esempio Sulla classe Sull'interfaccia Verifica Che abbiamo Visto Prima Io In verifica Eccola qua Ho Il metodo Test Che funziona Benissimo Ovviamente Potrei voler andare A verificare Un Un altro Caso In cui Ho La negazione Di un Particolare Verifica Quello che posso fare Ad esempio E andare a dire Data la verifica Mettere un metodo default Che sostanzialmente Restituisce un Oggetto Verifica Not O negato Che riceve Che quindi viene chiamato Su un oggetto verifica E Mi restituisce Una lambda Che Prende Il valore O E Mi restituisce Not Di This Punto Test Di O Questo non cambia nulla Perché essendo un metodo Di default Questo è già implementato E quindi Mi basta Una lambda Per implementare Questa interfaccia Allora Non è chiaro La posizione del parametro t Nei differenti casi Di tipo generico Allora Quando io dichiaro Un tipo generico Metto t Dopo Il nome Della mia Classe O interfaccia Quando vado a implementarlo Di nuovo Metto Questa volta Non t Ma metto Il valore Che io voglio sostituire Al parametro t Direttamente dopo Nel caso dei Metodi generici Ce l'abbiamo qua sotto Il parametro di tipo Si mette prima Quindi prima del Tipo di ritorno Metto t E questo mi sta a indicare Che questo metodo Sarà generico Normalmente Non è necessario Infatti quando ho chiamato Count if Qua sotto Eccolo qua Quando ho chiamato Count if Non è stato necessario Andare a mettere Nessun suggerimento Se voglio andare a mettere Un suggerimento Lo devo fare Lo devo fare Andando a specificare L'oggetto Su cui lo chiamo Oppure la classe E Successivamente Il suggerimento Quindi qui Dovrei andare a dire Esempi Esempi Generici Punto String Count if Questo con il suggerimento Ovviamente Lo posso scrivere Tranquillamente Anche senza suggerimento Perché il compilatore È in grado Di inferire Questa parte È un epilogo Molto veloce Però poi Se ci sono casi particolari Magari Di nuovo Scrivimi Su Slack E vediamo Di analizzare Se Se Dei dubbi Particolari Allora Domanda Che cos'è Il parametro U Allora Il parametro U Non c'è qua Ma c'è Ad esempio Qua Vado a prendervi Un Binary Function Ad esempio Che è ancora più complicata Che quindi Ha tre Tipi Allora Binary Function È una funzione Come vedete qua Che ha tre parametri Di tipo Non soltanto uno Perché Perché ci sono tre tipi Che possono essere coinvolti In questa funzione La Binary Function Vedete qui c'è un metodo Default Che noi ignoriamo Ma c'è sostanzialmente Questo Metodo Che si chiama Apply Che riceve Un oggetto Un parametro Un parametro T Di tipo T Di tipo T Grande Un parametro U Di tipo U Grande E restituisce Un risultato Di tipo R Quindi Io ho sostanzialmente Tre diversi tipi Che sono coinvolti E tutti e tre Li lascio Indeterminati Questo vuol dire Che quando andrò A creare Un'istanza Di questo By Function Il compilatore Dovrà andare A inferire I tre tipi Che sono coinvolti Il compilatore Normalmente lo fa In maniera Abbastanza semplice Per cui Posso fare Ad esempio By Function Un qualcosa Che Vedete che I tre tipi Sono T U E R Quindi primo parametro Secondo parametro E risultato Primo parametro Integer Secondo parametro Double E risultato String By Function Uguale Ho una lambda Che ha due valori Quindi L'intero Il double E restituisce Ad esempio Risultato Due punti Più I punto Int Value Più D punto Double Value E ovviamente Devo andare a Importare By Function Ok Quindi in questo caso Il mio Compilatore Ha restituito Ha restituito Ha sostanzialmente Inferito Questi Tre tipi La sessione È terminata Dall'altra parte Quindi La terminiamo Anche Nella registrazione Dall'altra parte Dall'altra parte